La novità nel modo di viaggiare, New Viaggi di Dario Amenta, è la scelta giusta non solo per il turista alla ricerca di escursioni personalizzate, ma anche per chi deve spostarsi da un posto all'altro con certezza di orari. Si effettua servizio navetta da e per gli aeroporti siciliani 24 ore su 24, noleggio mezzo con conducente, escursioni in tutte le città siciliane, servizio navetta per matrimoni e cerimonie varie per gli sposi e gli invitati. Se hai bevuto un bicchiere di troppo, l'etilometro non sarà più un tuo problema con New Viaggi. Info al 347 14 32 608